Continua la mobilitazione delle famiglie biellesi contro la DAD e quindi per la riapertura delle scuole. Dopo le manifestazioni, flash mob e gli incontri spontanei, da qualche giorno la protesta viaggia sulle chat di WhatsApp con il testo di una lettera aperta che le famiglie possono sottoscrivere utilizzando un apposito modulo creato su Google. La missiva è indirizzata al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, all'assessore all'istruzione Elena Chiorino, biellese, e alla collega di giunta Chiara Caucino, biellese anche lei, e assessore alle politiche della famiglia, dei bambini e delle pari opportunità. Per conoscenze il documento sarà trasmesso anche all'ufficio scolastico regionale e a quello provinciale. Il tema della scuola è sicuramente fondante e gli studenti, non solo quelli biellesi e piemontesi evidentemente, sono tra le categorie che hanno pagato il prezzo più caro di questa pandemia, una didattica a distanza che acuisce le disuguaglianze sociali e che isola i nostri ragazzi proprio in un momento cruciale della loro formazione. E tutto questo senza voler entrare nel merito delle competenze pesantemente compromesse da un metodo di insegnamento che nasce come emergenziale ma che ormai nell'ultimo anno è diventato preponderante. Il discurso ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina e poi la terza figura di donna biellese, la più importante peraltro, coinvolta nella debacle della scuola, succube anche delle pressioni di molti insegnanti che tutto sommato la DAD la gradiscono per comodità. Il testo dell'ammissiva che viaggia sugli smartphone di mamme e papà con un veloce tantam propiziato dalle tante chat che riuniscono genitori e famiglie degli studenti biellesi in sintesi chiede la pronta riapertura almeno degli istituti comprensivi che sono scuole di prossimità territoriale già pronte a seguire i protocolli nazionali e di scarso impatto sui trasporti pubblici, la revisione delle norme che prevedono l'automatica chiusura delle scuole senza tener conto del numero effettivo dei contagi, di incentivare la possibilità di organizzare lezioni all'aperto che consentono di tenere aperte le scuole anche nelle zone rosse e iniziative mirate per il recupero didattico, emotivo, relazionale, sociale, psicologico dei bambini e dei ragazzi che consenta di collaborare per rimediare ai danni creati dall'isolamento e dalla distanza.